Antonio Cassano, Antonio Cassano al Genoa. Ciao a tutti del vostro Jumpy. Allora, la notizia è di poco, ovviamente sono solo voci, eh, sono solo voci di un certo Sundas, un agente praticamente, che dice che vuole portare, e ha già tutto pronto ed è sicuro di portare, Antonio Cassano, Cassano, Antonio Cassano al Genoa, è sicuro di portarlo, vuole portare Antonio Cassano al Genoa, perché comunque ritiene che per lui, che possa dare ancora molto, quindi il Genoa, che è una piazza di Serie A, una piazza importante, vuole dare questa opportunità ad Antonio Cassano di giocarsela ancora in Serie A, per poi dargli anche un futuro come allenatore delle giovanili. Voi ci credete? Io personalmente, non so, da Antonio Cassano, Cassano veramente tutto è possibile, adesso si stava allenando con Lentella, e potrebbe già lasciare Lentella per accasarsi nella sponda rosso-blu di Genoa. Sarà vero? Lo farà? Certo che dopo l'arrivo di Juric, per i tifosi del Genoa, beccarsi anche Cassano, io onestamente non so se possa far piacere o no, credo di no, credo, credo di no. Alla sponda blu cerchiata sinceramente non gliene frega proprio meno di niente, cioè ormai Cassano appartiene al passato e non al presente della Samp, il presente della Samp è un'altra storia e meno male che sia così, ma sembra che lui, anche perché comunque lui, lo sappiamo tutti, che non si vuole muovere da Genova, ormai casa sua è lì, visto che comunque la moglie è di lì, e quindi lui sarebbe magari, a Lentella gli va bene, ma secondo me a questo giro potrebbe anche accettare, secondo me, lui. Io non so come la prenderebbe la sponda rosso-blu, non lo so, onestamente. Dicono che comunque con Piontek formerebbe, lui, questo Sundas dice che con Piontek formerebbe una coppia ad altissimo livello per questa Serie A, dice che lui si sente ancora pronto di giocare, visto che lui ritiene che praticamente sono messe più forti adesso, cioè ormai ai 36 anni cosa puoi dare? Sì, i colpi ce li hai, quelli non li dimentichi, ma non hai più il fisico. Poi ora sono, mi pare, due anni che non gioca proprio, due anni e mezzo, qualcosa del genere, che non gioca ad un certo livello. E quindi... Antonio Cazzaro. Io vorrei sapere, cioè veramente adesso vorrei sapere cosa ne pensa Juric se dovesse arrivare Antonio Cassano. Io dire che se Antonio Cassano venire a Genoa fare bene, quindi essere contento di essere venuto a lavorare qui, a Genoa, a rubare soldi, perché io di calcio capisco niente. Quindi, Cassano? Certo, sono contento! Juric dice che sarebbe contento nell'arrivo di Antonio Cassano. Vabbè, stiamo a vedere. Niente, cosa aggiungere? Non so se si avvererà o no, onestamente... No, a me non mi fa ormai né più caldo né freddo, perché comunque non lo ritengo né una bandiera blu cerchiata, solamente appartiene al passato della storia blu cerchiata. Poi per come si è comportato, onestamente... Io lo ritengo che poteva essere, poteva essere veramente un grandissimo campione, ma purtroppo non l'ha mai dimostrato di essere questo grandissimo talento addirittura solo Messi è meglio di lui, onestamente. Quindi Cristiano Ronaldo sarebbe meno di lui? Secondo voi? Secondo me no. Secondo me no. Secondo me è Cristiano Ronaldo, ma ce ne sono molti altri. Prendi Totti, Del Piero, sono stati molto meglio di lui. Molto. Poi poteva essere, poteva essere, ma non l'ha mai dimostrato, purtroppo se è stata e sta qui, ha avuto stata e sta qui. Niente, voi cosa dite? Commentate, condividete, iscrivetevi al canale, per favore iscrivetevi, siamo quasi a mille, sono contentissimo. E niente, quindi mi raccomando, anche commentate su questo, su cosa ne pensate voi di questa storia qui che lui può andare al Geno. Grazie. Grazie.